La Repubblica italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite alle persone indigenti. A citarlo è l'articolo 32 della Costituzione, ma a diserni alla situazione per le famiglie più bisognose non è proprio quanto di meglio si possa sperare. Il Partito Comunista dei Lavoratori infatti fa sapere che dal mese di luglio il Comune Pentro non ancora ottiene dalla Regione le risorse finanziarie destinate al reddito minimo per persone in grave difficoltà economica. Una inerzia che vede sul Banco degli Imputati l'amministrazione Frattura è la stessa giunta comunale del sindaco D'Apollonio. Mentre fiumi di denaro pubblico finiscono nelle tasche di lobby industriali, clero e casta politica, i poveri sono costretti a raccattare le briciole per sbarcare in Lunario e le cure mediche diventano una sorta di lontana utopia, impossibilità di accurarsi bene nelle strutture ospedaliere pubbliche a meno dell'esborso di molti quattrini in quelle private. Il PCL ricorda come anche nel recente passato ad Iserni a milioni di finanziamenti hanno preso la strada di progettisti per il lotto zero tra Iserni e Miranda, la realizzazione dell'auditorium Unità d'Italia, i doppi fitti per gli stessi uffici regionali e per le profumate consulenze esterne del servizio informatico della provincia.